Domenica 7 luglio dalle 17 alle ore 20 ad Agropoli verrà allestita un'isola ecologica mobile presidiata da operai della Sarim, ditta che gestisce il servizio di igiene urbana sul territorio comunale, presso il parcheggio adiacente all'impianto sportivo Guariglia. Questa operazione, fanno sapere da Palazzo di Città, viene compiuta con l'obiettivo di fornire un servizio aggiuntivo che possa essere funzionale ad un miglioramento della percentuale di raccolta differenziata. Il conferimento è aperto a tutti e in particolar modo ai turisti che, terminato il periodo di vacanza o il breve soggiorno, hanno un punto di riferimento presso cui recarsi per conferire i rifiuti differenziati prodotti.